Le grandi reti televisive statunitensi prendono le distanze dalle sigarette elettroniche. CBS e Warner Media, gruppo che controlla la CNN, hanno infatti annunciato che sui propri canali non verranno più trasmesse pubblicità delle cosiddette SIG. La decisione, spiegano le emittenti, è dovuta al crescente allarme per le malattie polmonari che vengono collegate proprio all'utilizzo di questi prodotti, con circa 400 casi e 7 decessi sotto esame. In attesa che l'amministrazione Trump apprenda una decisione a livello federale per affrontare un'epidemia sempre più allarmante, in due stati americani, New York e Michigan, le sigarette elettroniche aromatizzate sono state messe al bando, soprattutto per tutelare i più giovani. E ora anche il secondo paese al mondo per numero di fumatori, l'India, sceglie la linea dura, approvando un ordine governativo che mette fuori legge la produzione, l'importazione, l'esportazione e la distribuzione di sigarette elettroniche, con multe e pene severe fino a tre anni di reclusione. Una decisione, spiega il ministro delle finanze, Nirmala Sitaraman, presa tenendo a mente l'impatto che le sigarette elettroniche hanno sui giovani.